Ti amo potrebbe essere una grande bugia. Vorrei spiegarvi questa frase. Quando noi diciamo a qualcuno ti amo, noi non possiamo essere del tutto credibili. Infatti l'amore non è qualcosa che l'io possiede, non è prerogativa dell'io e quindi non è qualcosa che l'io può dare ad un altro. L'io non può disporre completamente dell'amore, perciò non può offrirlo, perché come dice Freud l'io non è padrone a casa sua e l'amore non può essere una faccenda dell'io. Anche se inizialmente l'io si crede onnipotente, ma pur credendosi onnipotente l'io non può governare le sue passioni, non le può controllare. Non si possono tenere sotto controllo le emozioni, per esempio. Tant'è vero che la psiche non è soltanto razionale, ma è mossa in prevalenza da processi inconsci, irrazionali. Quindi se l'io non è padrone dei suoi pensieri, non è padrone delle sue emozioni, come può essere padrone dei suoi amori? Perciò quando diciamo a qualcuno ti amo, non siamo del tutto credibili. Il ti amo nasconde un inganno, che poi è anche un autoinganno. Non a caso le esperienze dell'anima sfuggono a qualsiasi classificazione, sfuggono a qualsiasi definizione, perché la totalità di questa esperienza è sfuggente, è caotica. Emerge dall'abisso nel quale l'io non vuole entrare. L'io ha paura dell'abisso. Sapete quando è che l'io entra nell'abisso? Solo quando collassa, solo quando non oppone più resistenza. Allora l'amore riesce a trasfigurare la sua abituale identità. Trasfigura l'io e l'io si apre. Ecco che diciamo che il guscio narcisistico si rompe. I beni più grandi ci vengono da questa apertura, che è un'apertura traumatica per l'io. L'io vorrebbe starsene al riparo dalle novità. L'io patisce l'apertura, patisce il cambiamento. L'io non vorrebbe confrontarsi con ciò che non conosce, con il diverso che lo abita, il cosiddetto ospite inquietante, come lo chiama Galimberti, che si nasconde dentro di lui. Infatti amare per gli antichi significa essere posseduti da un dio. Dio. L'amante è colui che ha dentro di sé un dio. Non è l'io che pensa, non è l'io che parla, ma l'io in questo caso viene parlato, viene agito. In presenza di amore l'io subisce una dislocazione, uno slocamento. Perciò l'io non dispone dell'amore, ma è mosso da questo potente sentimento che lo espone ad una crisi, in quanto l'amore toglie l'io dal suo centro, lo decentra. L'amore irrompe nell'io scompaginandolo, destrutturandolo. Però qual è la fortuna di questa condizione? La fortuna è che in questa condizione l'io può entrare in rapporto con l'altro, un altro che si trova al di là dell'io. Ecco che l'io si apre e fa spazio al diverso da sé. Ecco che muore una parte di io per far nascere qualcosa di nuovo. Quando l'io si dissolve momentaneamente, quando l'io dissolve i suoi confini, allora può riorganizzarsi in nuove configurazioni. E la rinascita psicologica è proprio questo. Implica un cedimento parziale dell'io. Implica un superamento della sua ostinazione a resistere. Implica una rinascita. La rinascita è rottura del guscio narcisistico. Del resto, solo ciò che si espone ad una lacerazione può rinascere. Buona rinascita a tutti. Vi ricordo che per richiedermi una consulenza psicologica online, con videochiamata o una consulenza telefonica, o via mail, dovete scrivere un messaggio su whatsapp al numero 338 16 92 473, scrivendo come funziona la consulenza, specificando il vostro nome, il vostro cognome e i vostri orari preferiti. Buona giornata.